Fra i molti musicisti che ora venivano a trovarmi, venera uno molto caro, Felice Mendelssohn. Ma lo sapevate che da bambino era stato allievo di Zelter? Ma sì, sono sicuro che ne eravate già al corrente. Beh, fu lui a riportare a nuova vita la passione secondo Matteo di Giovanni Sebastiano Bach, caduta in oblio da cento anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.